La mia passione per la scrittura nasce in contemporanea con quella per la lettura non vicariale, ossia per la lettura autonoma. Fin da quando ero bambina amo leggere e scrivere, ma mentre con la lettura ho avuto un continuum nel corso di tutta la mia vita, ho iniziato a scrivere narrativa sia per adulti che per bambini solo dopo i 30 anni. Precedentemente ho scritto molto, ma saggi relativi all'ambito accademico. Tuttavia nel corso della mia vita sono tre i temi fondamentali, le parole fondamentali attorno alle quali ruota la mia intera produzione letteraria. Femminilità, identità e comunicazione. Scrivo sulle donne, relativamente quindi alle donne, ma non soltanto per le donne. Mi occupo di femminilità risalendo fino agli archetipi, ai tempi in cui le donne erano dè e potenti, e fecero così tanta paura da gettare le basi per una cultura patriarcale che ha negato la loro voce. Esiste una letteratura femminile non in quanto essa ha caratteri stilistici che possono universalmente definirla diversa da quella maschile, ma esiste una presa di coscienza da parte delle autrici del percorso storico che ha portato le donne a non avere la possibilità di esprimersi, a dover essere confinate a un posto all'ombra, senza poter raccontarsi, se non facendo riferimento a poche eccezioni che costellano il panorama storico e letterario. Quindi amo il mondo del femminile, amo le protagoniste che sfuggono e rifuggono stereotipi, modelli femminili non adeguati, che sviliscono quello che è davvero l'enigma che neanche Freud sape risolvere, ossia quello della donna. L'altra parola è l'identità. Sono espatriata da circa dieci anni, ho vissuto prima in Medio Oriente e ora vivo a Copenhagen, e nel futuro altre saranno le destinazioni che mi aspettano in quanto mio marito lavora per una multinazionale. Però questa occasione di confronto con culture diverse è di presa di coscienza di una situazione in atto che era quella della disoccupazione in Italia, che mi ha portato a essere scelta dall'espatrio piuttosto che a sceglierlo e a innamorarmi di una vita che forse non avrei contemplato se non mi fossi trovata nelle condizioni di dover partire e ricominciare da capo, e scoprire cose nuove di me, assecondare le passioni, però reinventandomi. Ed è proprio nello spazio, nel tempo vuoto di affetti e di progetti lavorativi imminenti del mio arrivo a Copenhagen che ho iniziato a scrivere il mio primo romanzo, successivamente il mio secondo, il mio saggio che è una rivisitazione della tesi dottorato su Maria Maddalena, e vari racconti per numerose antologie e libri per bambini. Identità. Identità di donna, ma anche di italiana e di sarda. La consapevolezza e la fierezza delle proprie radici, che sono fondamentali, perché nel momento stesso in cui si riconoscono le proprie origini, si è consapevoli di chi è, di chi si vuole diventare, e ci si apre al confronto costruttivo con l'altro, perché niente è più prezioso della cultura della differenza. Ed è proprio la diversità di sesso, di etnia, di religione, di costumi, di cultura, che è la base, che deve portare alla terza parola, che è la comunicazione, che è alla base del mio desiderio di scrivere e di leggere. Perché nel momento stesso in cui leggiamo, e nel momento stesso in cui scriviamo non più per noi, ma per pubblicare, rendendo un libro, un figlio autonomo da sé, da destinare al mondo, allora stiamo costruendo un ponte sul quale incontrarci, per avere confronto, comunicazione, per poterci spicchiare negli occhi degli altri, conoscerci e alla fine avere più informazioni anche su noi stessi. Grazie.